Ciao, sono Marco Zammarchi, fotografo e imprenditore, e ti do il benvenuto in Hacker Photographer, la prima community italiana che parla solo di business per fotografi wedding, family e pet. Abbiamo una pubblicità bomba che viene costituita da due ingredienti di pari importanza, che sono il pubblico e il contenuto sul quale andremo a pubblicare sul pubblico che abbiamo identificato. Quindi pubblico e contenuto. Switcho su mio computer, vi faccio vedere una cosa. Nel bootcamp ho fatto vedere questa inserzione di Ellen di una bisnonna, cerco di farvi vedere l'inserzione se ci riesco, è una bisnonna che in pratica tiene in braccio un bambino, una bambina appena nata, quindi è un servizio fotografico newborn. Questa, eccolo qua, questa post di organico aveva già bombato di brutto. Quindi noi cosa abbiamo detto? Lo prendiamo e lo andiamo a posizionare su un pubblico che secondo noi può essere interessante. Vi parliamo quindi del pubblico. Poi dopo andiamo a analizzare un po' più in dettaglio questo contenuto. Il pubblico che io ho creato per questa inserzione di Ellen, molto probabilmente lo vediamo più velocemente qua, è un pubblico, cliccando qui, nel business manager di Facebook, dopo poi vi do alcune indicazioni, anzi ve le do subito in tante che si carica. Allora, tutte le promozioni che fate all'interno della piattaforma Facebook e Instagram dovete passare da business manager, business.facebook.com è gratuito e vi consente di fare delle pubblicità in maniera molto più strutturata rispetto al semplice bottone che se non ricordo male adesso si chiama mettiposti in evidenza, oppure sponsorizza promozioni all'interno di Instagram. Se volete fare delle promozioni importanti in termini di risultati dovete passare dal business manager. Uno dei vantaggi del business manager è che vi consente di utilizzare dei pubblici personalizzati. I pubblici personalizzati sono dei pubblici che noi possiamo andare a creare nell'area pubblico del business manager. In questo caso io ho miscelato tre pubblici. I navigatori del sito di Ellen Zammarchi degli ultimi sei mesi, il pubblico di Ellen Zammarchi di pagina Facebook degli ultimi sei mesi e il pubblico che ha interagito con la pagina Instagram di Ellen Zammarchi negli ultimi tre mesi. Capite bene quindi che mentre di solito molti di noi fotografi mi accorgo che facciamo delle pubblicità andando non a scegliere un pubblico pronto per interazione ma andando a lavorare qua quindi mettiamo non so se siamo di Ravenna la città di Ravenna mettiamo l'età e poi andiamo a dettagliare con gli interessi questo pubblico è meno specifico rispetto a un pubblico che Facebook ci può dire che è esattamente il pubblico delle persone che effettivamente hanno avuto un'interazione con noi. Capite bene che questo pubblico è estremamente più sensibile ai nostri contenuti rispetto a un qualsiasi altro tipo di pubblico che è un pubblico quindi un po più freddo rispetto a questa miscelazione che vi ho creato. Perché? Perché qui noi andiamo a insistere su dei navigatori che hanno o visto il sito di Ellen e o hanno navigato la pagina Facebook di Ellen e o hanno navigato la pagina Instagram di Ellen Zammarchi. Capite che è un pubblico bomba e questo è uno dei primi aspetti lavorare su dei pubblici che siano estremamente efficaci. Su questo pubblico ovviamente andiamo a sparare il nostro piano editoriale e apro una parentesi. La parentesi importante è che Facebook e anche Instagram siccome anche Instagram si sta saturando non danno più una visibilità completa dei vostri post a tutta la vostra customer base e ai vostri follower. Cosa significa? che siccome l'algoritmo taglia tantissimo la copertura organica dei vostri post che cosa succede? Succede che solo il 4% o il 3% della vostra audience Facebook generalmente vedi i vostri post quindi quasi nessuno. E allora se voi andate a lavorare comunque su chi vi conosce già e andate a fare vedere loro i vostri messaggi è ovvio capite bene che andrete a far vedere i vostri messaggi a delle persone interessate ma che a causa dell'algoritmo di Facebook non vedono più i vostri post. Capite quindi qual è il vantaggio di lavorare su questo pubblico. Clicca sulla campanellina e segui tutti i nostri contenuti. Ciao!